Ciao a tutti, sono Carina e con la K, la mia più grande passione è la ginnastica. Oggi andiamo avanti con gli esercizi per le braccia, ma con un aiutino, con una pallina. Se non avete in casa una pallina, potete usare anche un giocattolo morbido. Incominciamo, mettiamo avanti il braccio, la prendiamo la mano, prendiamo la nostra pallina, la mettiamo sulla mano, chiudiamo, la spalla la teniamo giù e il braccio deve stare all'altezza della spalla. Con le dita schiacciamo la pallina e lo facciamo per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso lo facciamo con l'altra mano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso con l'altra mano la prendiamo fuori, la pallina deve rimanere in su, il braccio teso e dobbiamo ancora con le dita schiacciare la pallina. E lo facciamo per dieci volte con la schiena bella dritta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso lo facciamo con l'altra mano. Teniamo il braccio bello teso, la pallina la teniamo in su, la spalla giù e schiacciamo con le dita per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso con l'altra mano la teniamo in su, la spalla la teniamo giù, il braccio bello teso e ancora con le dita dobbiamo schiacciare la pallina. La pallina deve guardare verso la nostra testa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso lo facciamo con l'altra mano. Tiriamo sul braccio, la spalla giù, il gomito teso e con le dita schiacciamo la pallina. E la pallina deve guardare verso la nostra testa. Lo facciamo per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso con la mano destra dobbiamo mettere dietro la pallina, dobbiamo tenere il gomito teso e la pallina la teniamo sulla mano e deve guardare verso l'altra mano. E lo facciamo per dieci volte. Con la schiena bella dritta e la spalla in giù. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso facciamo con l'altra mano. Ci giriamo, vabbè potete stare anche dritti, teniamo il gomito bello teso, la spalla giù e con la manina dobbiamo guardare con la pallina verso l'altra mano. E dobbiamo ancora schiacciare con le dita e lo facciamo per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Andiamo ancora a mettere la pallina tra le due mani ma con le dita tese. Apriamo i gomiti, teniamo su le spalle e teniamo la schiena dritta. E andiamo a schiacciare per dieci volte la pallina. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso lo facciamo con un po' più tese le braccia e la pallina che guarda la nostra faccia. Lo facciamo per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso mettiamo la pallina sopra la nostra testa con le spalle giù e la schiena dritta. E andiamo a schiacciare la pallina sopra la testa per dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso lo facciamo dietro con le spalle giù e la schiena dritta e andiamo a schiacciare la pallina con le nostre mani. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso sciogliamo le nostre bracciette. Sono diventate un po' più forti le vostre braccia con gli esercizi di oggi. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video... Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video... Iscrivetevi al mio canale. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e se volete lasciare un commentino, fatelo sulla mia pagina Instagram. Mi chiamo Carolina con la K. Ciao!